Da francese, stand up, ma non, dai che sei stata bravissima, primo barile di testa, ragazzi, ma guardate la gritta di questi ragazzi, sento staffe, un equilibrio perfetto, dai stand up, e va a chiudere il tempo, un applauso, dai, no, 189, brava, il trattore in campo, grazie, e avremo l'ultimo binomio della categoria, Stefano Larota in sala da Happy.